Logitech vuole creare il primo abbonamento hardware della storia. Nvidia sta avendo qualche problemino con l'antitrust e Intel subisce la prima class action sul caso Raptor Lake. Queste e altre news nel nuovo episodio di More Than News. Allora, lo so che di solito More Than News lo facciamo verso la metà o la fine della settimana, ho deciso di fare questo episodio speciale perché questa news di Logitech più quelle di Nvidia secondo me sono molto importanti da riportare, tanto quanto quella di Intel. Partiamo appunto da questo universo. Allora, di recente, negli ultimi giorni, Intel non se la sta vedendo bene. Così come un po' tutto il mercato ha dato segni di cedimento. C'è da dire però che il loro caso in particolare è stato un calo, un abisso, un picco verso il basso, veramente forte, del 24% in poche ore. E questo è molto grave perché nonostante tutto il mercato sia messo un po' male, Intel è messa molto peggio della media. Quando sto registrando questo video anche il resto del mercato è messo male, nel senso che tipo oggi la borsa giapponese è almeno 12%, ci sono tante cose che stanno succedendo in negative, c'è un rischio di recessione. Però al tempo stesso ragazzi c'è da dire che Intel è messa male male. E nonostante Intel abbia dato delle prime risposte, la poca celerità nell'agile per questo problema, che comunque è noto da più di tre mesi, effettivamente ha portato al fatto che la Abington Call Plus LRE stia raccogliendo testimonianze per poter eventualmente produrre una class action nei confronti di Intel, che ha abbandonato i propri consumatori lasciandoli imbraghi di tela. Devo essere onesto, se avessi un processore 13.000 o 14.000 attivamente in ambient build a gaming e questo causasse crash ai giochi e non avessi avuto nessuna risposta da parte Intel, come consumatore sarei molto arrabbiato. Per il momento io sto utilizzando AMD con 7800 X3D, processore non privo di problemi, qualcosina l'abbiamo vista in passato, però al momento nessun particolare dilemma mi affligge quando voglio giocare. Funziona. Come potete vedere la Abitual Call Plus LRE sta raccogliendo informazioni in maniera abbastanza specifica, ti chiede il nome e cognome, il tuo numero di telefono, lo stato in cui risiedi, essendo loro statunitensi, e eventualmente dati come appunto il nome, cioè il codice del tuo processore e cose del genere. Diciamo che Intel, come ci riporta anche qui, Videocards è passata attraverso un insieme di momenti. hanno ammesso il problema, hanno ammesso che ci sia anche un problema di ossidazione, oltre a quello relativo al microcodice, e come ci riportano testate come The Verge, hanno anche aggiunto due anni di garanzia di copertura, insomma, per i processori 13.000-14.000 affetti da questi problemi. La risposta c'è stata, Intel, però troppo troppo in ritardo. Capisco perché ci sia così tanta gente arrabbiata. Non sono un fruitore di questi due prodotti in particolare, di queste due porzioni di prodotti del segmento di Intel, però non ci siamo. Come a quanto pare non ci siamo nel processo di produzione delle nuove schede video di Nvidia. Infatti a quanto pare i chip Blackwell, sponsorizzati principalmente come CPU da AI per il momento, potrebbero avere dei flow nel design, dei problemi nel design, che potrebbero portare a un ritardo di ben tre mesi nella produzione. Il problema generale, ragazzi, è che Nvidia ha molti clienti, ormai è nell'ordine dei miliardi per quanto riguarda gli ordini che riceve e avere un ritardo di tre mesi per un'azienda del genere, che in questo momento è anche un po' un monopolio, è grave. Veramente, veramente, molto, molto brutta come situazione. Attualmente questo è un rumor, ma abbiamo però delle informazioni giuste, come per esempio il fatto che Google abbia ordinato 400.000 chip GB200, che sono quelli da server, per un ordine totale di 10 miliardi di dollari. Meta segue con un ordine simile e anche Microsoft tra i 55.000 e i 65.000 pezzi di GB200. Capite che, insomma, un ritardino di tre mesi quando hai speso sti 10 miliardi non è proprio simpatico da subire. Staremo a vedere. Anche perché ovviamente poi il ritardo si riflette anche su noi con il porzionamento della parte gaming. Dall'altro canto, Nvidia non è che se la stia passando benissimo, è sotto indagine infatti dall'antitrust. E mi sembra anche normale quando la tua reach di mercato rappresenta l'80% del mercato AI. Mentre Intel e AMD si dividono il resto. Cioè, stiamo parlando di un dominatore di mercato. Mi chiedo però perché queste indagini non ci siano state ai tempi di Intel quando Intel aveva il 90% delle CPU prima di Ryzen. Però, ehi, a quanto pare AI e dominio di mercato non vanno bene insieme nel momento in cui c'è uno sviluppo tecnologico del genere. Per il gaming ci siamo. Per il gaming va benissimo. Ad ogni modo, l'antitrust sta indagando chiedendo testimonianze ovviamente anche ai concorrenti di Nvidia come AMD e Intel. Immagino che gli diranno che sono dei bravi ragazzi. Per il resto c'è un'indagine in corso sia per delle pratiche di vendita sospette da parte dell'azienda verde che ovviamente sono soltanto accuse non è detto che siano fondate o meno e dall'altro lato abbiamo anche il fatto che Nvidia avendo questo grosso predominio di mercato potrebbe aver pompato artificialmente un po' i suoi prezzi lato server per ottenere una revenue maggiore. Diciamo che effettivamente quando hai un mercato in cui quattro aziende su cinque già domini su Google, Meta e Microsoft come vendite hai questa possibilità. Se la sfrutti però ti vengono a indagare. Questa è la situazione. Non se la passano bene Intel e Nvidia eh? Qualche problemino. AMD per adesso sembra essere l'angioletto della situazione il fratello di mezzo su cui nessuno indaga. Hai capito. Ma parlando di cose che effettivamente vorremmo indagare un po' di più Lenovo ha detto ma presentiamola alla Legion Go senza presentarla. Cosa hanno fatto? Di recente è stata aggiornata la pagina della Legion Go e vengono riportati dei dati che non sono coerenti con le attuali caratteristiche hardware e software del prodotto originale. La Legion Go. Questo fa pensare che ci sia in arrivo una Legion Go Lite mossa molto asardata se vi ricordate la Rogalai con versione Z1 base. Non ha proprio avuto il massimo dei successi. Ad ogni modo sono state aggiunte queste informazioni. Come potete vedere è stato indicato il fatto che il monitor possa essere da 7 pollici e quando la versione attuale è da 8.8. è stato detto che adesso c'è il supporto HDMI ma non c'è la mica un HDMI la Lenovo Legion Go. Dove spunta? E infine potete vedere che effettivamente viene citato un dual fans ma non c'ha due ventole la Lenovo Legion Go. Quindi per via dello schermo più piccolo che ovviamente sarebbe una caratteristica inferiore rispetto all'attuale versione della Legion Go si pensa che possa non essere una versione con strict point ma semplicemente una versione che appunto vada ad essere una Lite. Videocards qua ci riporta che si aspettano l'utilizzo dello Z1 ma se devo essere onesto se usate lo Z1 per favore Lenovo non fatela uscire proprio perché già lo Z1 Extreme inizia a dare il fianco lo Z1 Base per favore non va neanche considerato non è una versione Lite è una versione che è un insulto al consumatore non sappiamo niente del prezzo sappiamo solo che potrebbe uscire nel 2024 o che forse queste informazioni alla fine non rappresentano niente però perché aggiornare la descrizione di un prodotto in maniera così specifica con delle cose che non stanno sullo stesso? Staremo a vedere. Vedete questa donna è la CEO di Logitech io non sapevo che avessero una CEO donna devo essere onesto da Logitech molto interessante questa businesswoman rappresenta l'azienda e come tale ha voluto rilasciare un'intervista con The Verge intervista dalla quale sono arrivate delle novità abbastanza interessanti per quanto riguarda il futuro di Logitech in maniera un po' provocativa oltre come al solito a parlare di AI 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 intelligenza artificiale insomma oltre ad aver parlato come tutto il mercato mondo e universo spazio cosmo alieni di intelligenza artificiale hanno parlato anche di una cosa che mi fa un po' raccapricciare allora praticamente la CEO di Logitech si è fatta sfuggire il fatto che durante una visita a una fabbrica di Logitech in Europa le sia stato mostrato un concept da uno dei suoi ingegneri da una squadra dei suoi ingegneri di un forever mouse cosa vuol dire? un mouse che dura per sempre questo non è un concetto nuovo il forever in termini di tecnologie diciamo di uso quotidiano è un concetto per esempio che già esiste nel mondo degli orologi da tanti anni orologi alimentati a energia solare con appunto aggiornamento del tempo lato satellitare o cose del genere orologi che magari all'interno hanno componenti molto durature quartz, rubini e cose così almeno queste sono le mie poche conoscenze in ambito orologia orologistico orologio cose ad ogni modo hanno presentato questo concetto che però è un problema perché ovviamente un forever mouse è sbagliato dal punto di vista della revenue perché se io ti vendo un prodotto che è buono per sempre ovviamente non sei più un mio cliente dopo non comprerai più i miei prodotti a meno che non ti occorra qualcosa di diverso da quel prodotto in sé quindi il concetto dietro al forever mouse sarebbe di avere un mouse che sia universalmente buono come hardware e questo concetto personalmente non lo capisco perché i mouse si evolvono da molti anni però effettivamente con grossi aggiornamenti costanti dietro nel software che permettano di mantenere una linea di qualità perenne e quindi annullare completamente la necessità di cambiarli alla domanda se vedono un modello di iscrizione un modello di subscription per quanto riguarda questo mouse ha detto possibile e quello sarebbe il forever mouse yeah praticamente dicono eh però esistono già servizi per esempio di videoconferenza che ti fanno pagare un abbonamento però è un mouse giustamente replica di The Verge e dice sì pensalo però come il migliore dei mouse un mouse con i diamanti fuori un mouse perfetto ok l'anello di fidanzamento magnifico con diamante da 4000 carati se devo essere onesto questa notizia spero genuinamente che non sia di ispirazione per nessuno perché prima di tutto i servizi in abbonamento ragazzi esistono però sono spesso rolling release esattamente come questo mouse ma se penso a un servizio in abbonamento a me viene in mente Netflix viene in mente l'Xbox Game Pass che ogni mese mi danno ogni settimana delle novità che effettivamente attendo con piacere non qualcosa che la sera utilizzo ora se tu domani mi vieni a dire che questo mouse mi costa 80 euro e poi dovrò pagare 2 euro al mese per poterlo utilizzare nella maniera più completa possibile perché oggi è un mouse normale domani questo tastino qua crea la possibilità tenendolo premuto di parlare con chat GPT per me è assurdo perché questa non dovrebbe essere una cosa che tu mi vendi dovrebbe essere un aggiornamento software che tu mi garantisci perché io ti do fiducia comprando il tuo prodotto adesso sono disposto a pagare un mouse anche 200 euro anche 300 euro se è il mouse se è un prodotto di qualità se le plastiche non diventano giallognole dopo che le uso perché il prodotto è bianco Logitech se il prodotto ha una riparabilità infinita io te lo pago molto volentieri un abbonamento per esempio cioè se tu mi garantisci che io utente posso prendere staccare il pezzo e tu me ne mandi un altro qualora questo si danneggi una sorta di assicurazione io te la pago un'iscrizione te la pago molto volentieri se tu mi fornisci gli strumenti per mantenere il mio prodotto all'infinito allora sì ci sta magari ti pago il prodotto all'inizio per quello che è per farti sostenere i costi di produzione ovviamente spedizione marketing e tutto quello che vuoi e se tu dopo con questo abbonamento mi garantisci aggiornamenti software aggiornamenti dell'hardware riparabilità ad utente cose del genere assistenza garanzia tutto quanto un abbonamento ci potrebbe anche stare ma deve essere un abbonamento piccolo perché qua stiamo parlando di un prodotto tipo Netflix che mi offre tantissimo questo mouse l'ho pagato mi sembra 60 euro vorrebbe dire che in 5 anni pagando un euro al mese di abbonamento già sarei sopra il costo di questo mouse ma siccome un euro è una cosa impossibile in un abbonamento saranno almeno 1,99 in meno di due anni e mezzo sarei sopra il costo del mio mouse mi devi garantire tanto ora probabilmente alcuni di voi hanno una stampante in casa e magari alcuni di voi se hanno il modelli di HP utilizzano il servizio Instant Ink che è un servizio che sotto a un tot di stampe ti manda gratuitamente le cartucce per poterle fare ed è un gran servizio devo essere onesto tu compri la stampante una volta e poi sei l'oro cliente ti mandano sotto le 20 stamp al mese queste cartucce gratis personalmente è un servizio di cui ho usufruito per 5 anni senza pagare un euro fantastico per farvi capire la gravità della situazione HP di recente ha provato a mettere questo servizio completamente a pagamento anche con poche stampe devi pagare la versione Lite che in America sarebbe stata da 6,99 questo ha causato una rivolta popolare perché ovviamente la gente si è trovata da non pagare niente per stampare 10 pagine 20 pagine al mese a dover pagare per veramente pochissimo un servizio terribile ovviamente HP è un brand deve fare la sua revenue lo sappiamo benissimo non è un periodo semplice tutto quello che volete la gente parla vedete per esempio il piano Lite quello base introduttivo erano 6,99 al mese e puoi stampare 20 pagine al mese esattamente quello che vi ho appena detto che però io non ho pagato per 5 anni 700 pagine sono 35 euro al mese loro ti mandano cartucce per poter ottenere queste 700 pagine oltretutto avevano messo fuori anche delle cancellation fees perché bisogna vedere se questi abbonamenti sono disdicibili in qualsiasi momento io posso comprare il tuo forever mouse Logitech disdire l'abbonamento se non voglio più aggiornamenti se mi va bene quello che ho queste sono grandi domande mi mettete una fee di uscita anticipata altre grandi domande HP ha provato non è andata bene ve lo dico non è andata affatto bene servizi essenziali sono molto molto indagati dall'antitrust specialmente quando si parla in un'azienda ad ogni modo Logitech ha celermente preso distanza dalle parole della propria CEO dicendo era più una cosa provocativa e sapete per noi sarebbe un modo di abbassare l'impatto che abbiamo sul mondo uno dei nostri grandi obiettivi insomma hanno preso distanza da queste parole se devo essere onesto questa cosa del abbassare il nostro impatto sul mondo mi sembra sempre tanto greenwashing nel senso sono sempre molto contento che aziende grosse come Logitech si impegnino per abbassare le proprie emissioni di CO2 e il carbon footprint in generale al tempo stesso non voglio che questa diventi una scusa per far pagare agli utenti più di quanto debbano realmente mascherandolo da greenwashing vi diamo il mouse perenne non impattiamo sul mondo però vi ci date 2, 3, 4, 5 euro al mese di abbonamento ad ogni modo per adesso è un possible speriamo che nessuno prenda esempio ma sono 4 anni che ho paura di questa cosa più o meno dall'uscita dell'Xbox Game Pass chiudiamo questo video con una notizia secondo me molto molto interessante Asus vorrebbe presentare un tablet da gaming lo Z13 Flow 2025 quindi magari verso la fine dell'anno inizio dell'anno prossimo che monti Strix Halo Strix Point magari l'avete già sentito nominare più volte sono attualmente i processori di AMD con struttura monolitica e un mix di core tra Zen 5 e Zen 5C Strix Halo sono quelli invece con i CCD separati un po' come i processori desktop a cui siamo abituati attualmente sono praticamente la loro trasposizione e hanno delle combinazioni molto interessanti perché i loro SOC come ci riporta anche i videocards hanno la possibilità di integrare i livelli di potenza della VGA fino a 80 watt che è veramente veramente tanto 30 watt di CPU e 80 di VGA abbiamo anche dei primi test ovviamente ragazzi è una grande sfida mettere 100 watt e passa di componenti all'interno di un tablet però sembra che stiano facendo i compiti a casa questa sarebbe la struttura interna del tablet come potete vedere ci sono due ventole e la grande differenza è che non avendo una CPU e una GPU separate la zona da dissipare è soltanto una su cui però si appoggiano al punto di entrambe le ventole per aiutare ma la cosa interessante è che ci sono delle simulazioni di come potrebbe andare questa situazione per esempio con 25 gradi di ambientale che è anche più di quanto c'è in questo momento in questa stanza possiamo ottenere delle temperature da 85 83 gradi su una CPU e una GPU che stanno andando a più di 100 watt insomma come potete vedere ci sono alcune simulazioni possibili ancora non hanno finalizzato il design però le temperature sembrano essere molto buone l'unico che sta realmente bollendo poverino è l'SSD perché se questi sono gradi questi sono 117 gradi però mancano ancora i thermal pad da applicare quindi di per sé non sta avendo una corretta dissipazione sta letteralmente venendo simulato in maniera sbagliata devo dire che un tablet da gaming di questo tipo potrebbe essere un'alternativa veramente interessante all'endeld perché ti porti in giro un controllerino di quelli di Xbox e giochi giochi di brutto con una potenza di calcolo nettamente superiore a quella dell'endeld sarà da vedere la batteria con tutto sto consumo ovviamente quanto duri però hai anche uno schermo molto più grande perché comunque è un 13 pollici che ne pensate fatemelo sapere giù in con me per questo video di Morden News è tutto noi ci vediamo al prossimo vi state su Morden Tech salusa grazie a tutti i nostri